RIVIN VAL SHARES FAERN SHEBALI Sono Mikala Dokiannon, la padrona del sottosuolo E tuo chi diavolo saresti RIVIN? Il mio potere si estende in tutto il ferum Io posso minacciare anche governatori nel loro palazzo RIVIN DALA RUK ROZE CHIORIMALTE Mi disegnano così ecco, si 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 si, mi disegnano così Oh ben ritrovati, io mi chiamo Arel Ganondorf e un tempo ero il governatore signore di Zentilkip Uccidevo, razziavo e stupravo gente Poi per un giorno Fzul ha ucciso mia madre sul patibolo e mi ha cacciato da Zentilkip Poi per recuperare la mia dignità sono sceso dall'abisso con la mia ragazza che tra parentesi neanche me l'ha mai data E sono morto La morale della favola Il cavaliere nero è sempre quello che vince, il cavaliere bianco è sempre quello che muore I'm Papine Sailor Man I'm Papine Sailor Man Arrrrrr, sono il capitano Iganez Galvado Il mare mi piace sul car e mentre il rumo amo tracannare Nella mia ciurma sono il capitano e a tutte le donne faccio ancora il baciamano Oste qui mia signora mette altre il mio cappello e li guardo sotto l'ombrello Arrrrrr Ciao a tutti, io sono Annika e sono a pezzo quarta del ferro De solito mi piace fare le mie canne, quindi quando mi vedete sono sempre praticamente tragica Mi piace fare le mie canne a casa, mi piace fare le mie canne in game Quindi se vediamo se potremo fare una canne insieme Ricordatelo sempre Figono, non devi mai indietreggiare di fronte all'oscurità Ma bensì devi far sì che sia l'oscurità indietreggiare di fronte a te Chi sono io? Io sono Ray Ziel E il campione dell'oreal falco, gran provolone di Waterdeep Ho fatto andare quasi metà Shard a morire nell'abisso Tra cui c'erano i miei migliori amici Chi sono io? Io sono Ray Ziel Eh tutti tagliano, lo stanno facendo, ma mi viene la moda Ah no ti spacca il cazzo Sì Un borghese che deve fare Le crostatine Ah ma mica solo tu lo pensi, eh tutti lo pensano quasi È unica È proprio unica, secondo me è calda, cioè non va mai in quel falsetto urlato quasi angioso È proprio piena, cioè non senti mai una cosa pirata, è sempre piena nella vocalità, non so come spiegare Cioè è una roba che non ha trovato in nessun altro cantante di questo tipo È in italiano? No, vabbè, leggilo E va Ah ha cercato di fare il battutone, bravo Ecco il microfono No, le crostatine alla ciliegia Le crostatine da povero Sono andate a fanculo, c'erano quelle Questo è underground, questo è on the beach, questo è on the road, capito? Cioè A prescindere dal tuo mestru, se tu lasciassi finire di parlare alla gente, capiresti che comunque tante volte può capitare che il pensiero da donna coincida con quello della gente che non ha mestru Può capitare ogni tanto, eh? Perché ogni tanto capita Comunque no, a parti scherzi mestruali No, guarda Non è, non mi interessa Mica, mica mi gioco i numeri all'otto Tu, a parte essere male con niente Però, io te l'avevo detto all'inizio Guarda che se io mi metto in testa che te becco, te becco Te l'avevo detto? No, è un favore reciproco Io non ho piacere a bannarti, credimi Grazie 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 Grazie